Non riesco a capire cosa sia successo, che c'è? No! Ha rinunciato! Uuuu! Tutti insieme! Uuuu! Ehi! Adesso si è arrivato il vostro momento! Per vincere questa sfida non serve solo il motore, per me anche il cuore, per me l'asso dell'Octwills Gage! Massimo silenzio, applaudiremo a evoluzione compiuta, qualche accorgimento di sicurezza per l'abitacolo, vediamo che anche gli altri ragazzi stati che stanno assistendo il nostro pilota Gage dell'Octwills, controlliamo e verifichiamo che tutto sia a posto come come vi ho detto prima, infatti la macchina non è ancora al 100% della sua efficienza, quindi dobbiamo verificare al massimo che ci siano tutte le condizioni idonee per la massima sicurezza. e intanto vi consiglio anche di preparare i vostri telefonini perché oggi assistirete a qualcosa di veramente unico al mondo. Vediamo quando abbiamo il segnale giusto, se tutto è pronto, diciamo che lo inizia ad accendere, a scaldare il produttore, siamo pronti, diamo il segnale, pista libera, pronti per questa sfida, quasi impossibile. E mi arrivo. Sì! Vieni! 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 Tu ti vieni! Su, su! Vieni, vieni! Perché sono in una faccia! E' bellissimo! Lo stagio è l'unione al mondo! E' pronto! Amica, amica di prima! Marco Cianini! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti